Sistiamo tutto domani, ok? Ho un paziente in clinica. David, 15 anni, difetto cardiaco congenito. Voglio che passi un po' di tempo con lui. Non dirai sul serio. Occupati di lui o ti taglio i fondi. Lui è David. Ciao. Sei in ritardo? Dobbiamo andare a scuola fino al diploma. Non quando non ti resta molto da vivere, dai, che senso ha? Posso esprimere qualsiasi desiderio? Anche che vuoi andare sulla luna. E poi lo facciamo veramente? Nah. Ehi, brutti strozzi! Giù le mani dalla mia auto! Dove l'hai imparato? Collegio svizzero. Non ti devi agitare. Ogni mezz'ora un sms con foto. Ci sei! Fa proprio schifo, eh? David. Merda. Sei ignorante, sconsiderato ed egocentrico. La combinazione perfetta per un ragazzino malato. Che brutta faccia che hai. Anche tu. Non devi sposare la prima che incontri solo perché ti piace. Sì! Devi farle capire che la trovi fantastica. Se non lo fai subito, magari non potrai farlo mai più. Fratelli per sempre. Fratelli per sempre. Fratelli per sempre.